Benvenuti nel video tutorial del gioco arcade Gratte e Vinci di Babbo Natale di Playbonus Casino.com. Il gioco simula la giocata di una scheda di Gratte e Vinci, basata sul tema natalizio. Bisogna, in un riquadro composto da nuovi simboli, prendere tre immagini di Babbo Natale, in file orizzontali, verticali o oblique, per vincere il premio, che cambia di volta in volta. Per decidere il valore della cartella, clicchiamo su più e meno sotto la voce Valore cartella. E per iniziare a giocare, clicchiamo su Gioca. Per giocare una serie di schede in automatico, cliccare su più e meno sotto la voce Automatico, decidendo così il numero delle giocate. Clicchiamo su Play per cominciare. Abbiamo visto qualche esempio di gioco. Per maggiori informazioni sulle regole, le strategie per vincere, i migliori casino per giocare, vi invitiamo a visitare playbonuscasino.com. Alla prossima! Alla prossima!